Ora andiamo a parlare un po' di inheritance. Chiudiamo un pochino prima questi metodi che effettivamente non fanno nulla, quindi anche il costruttore possiamo andare a chiudere un pochino tutto, ci riduciamo un po' gli spazi, vediamo praticamente tutto in un'unica schermata. Parlando un po' di inheritance, se io volessi appunto definire quella che è una classe che io chiamo subuser, vado a dire che semplicemente va a estendere quello che è user. Ovviamente uno potrebbe avere tutta questa parte di costruttore che però oggettivamente a noi non ce ne frega nulla in questo caso. Quello che vogliamo andare a notare è che se io definissi quello che è un metodo o può essere appunto un getter, è quello che io voglio, che va a modificare una proprietà che ho come private successivamente, non lo potrò fare. E quindi vediamo in un po' questa limitazione. Andiamo a provare a creare un metodo che si chiama change course count. Se andassi a definire questa scrittura, ecco che mi inciamperò in quello che è l'errore in cui mi dice che la proprietà di cross count è privata e può essere solo accessibile all'interno della classe user. Questo perché? Perché quando vado a definire un qualcosa come privato, vado a dire che non solo questa variabile non è accessibile dall'esterno in generale della classe, quindi in quello che può sembrare il codice svolazzante in mezzo all'editor, ma non è neanche accessibile dalle sottoclassi. Ok? Quindi neanche chi eredita tutte le proprietà, come appunto farebbe subuser, che subuser praticamente eredita tutte le proprietà che troviamo all'interno dello user, quindi ce le dà comunque tutte quante, però non può a sua volta accedere a quelli che sono gli elementi private. Ciò che è private è accessibile solo e unicamente all'interno della classe stessa in cui esso è definito. Qual è quindi la soluzione? La soluzione è cambiare quella che è la parola chiave, poiché ne esiste un'altra apposita che è definita come protected. Protected va a permettere di accedere alle sottoclassi, a quelle che sono le variabili o i metodi protected, ma impedisce di accedervi da quelle che sono poi le istanze. Quindi se andassi a provare a console.loggare quello che è course count, ottengo l'errore. Quindi va a specificare che è accessibile a tutti i figli, diciamo, di questa classe, a tutte le sottoclassi di questa classe. Tutto ciò che è eredita da questa classe erediterà anche l'accesso a questo metodo. E qua possiamo vedere proprio la bellezza, tra virgolette, di TypeScript, che oltre a evitarci a priori, prima della compilazione, eventuali errori e permetterci di andare a risolverli prima che l'applicazione venga compilata, anche la sua capacità descrittiva alla lettura del codice, di darci indicazione di come e di chi può oggettivamente accedere o non accedere ad alcuni parametri. Questa è anche un'altra delle forze di TypeScript, poiché un dev arrivando all'interno di questo file, Classys, si renderà conto esattamente di come l'abbiamo impostato e come va poi continuamente impostata. Questa classe, come funziona, cosa non è accessibile, cosa non è che non è accessibile, cosa che vogliamo che non sia accessibile, cosa invece abbiamo concesso di accedere anche, a cui abbiamo concesso anche l'accesso dall'esterno, cosa invece vi si può accedere da un'altra sottoclasse, cosa solo dentro una classe, insomma ci dà tutto un insieme di tool che ci permette di sviluppare, comunque di creare delle classi molto molto robuste nel loro utilizzo.